Aperto a Muccia, il nuovo centro commerciale Il Punto, con 13 attività che ripartono nelle casette di legno. Un segnale concreto a cui si aggiunge tra pochi giorni la consegna di 52 SAE sull'altro lato della strada. Oggi è il punto, partiamo dal punto. Poi il 7 di dicembre consegniamo 52 casette, 52 corrispondono a 125 persone che torneranno a casa. Perciò è un primo segnale, noi abbiamo già date e consegnate 7 nella frazione Costa Fiore, però questo è 52 case, sono un numero a un certo peso in modo da dare veramente un segnale concreto alla gente che stiamo ripartendo e stiamo andando avanti. Esattamente quante attività ci saranno qui? Sono 13 attività, 13 attività che sono quelle che sono rimaste senza avere degli spazi e perciò sono dovuto aspettare per organizzarci in questa maniera per poter andare avanti. Un punto per ripartire, 13 attività qui a Muccia che riprendono il loro lavoro dopo 13 mesi? Sì, una scelta molto intelligente, quella del Comune, del Sindaco, di tenere insieme la ripartenza della parte commerciale con la fine dei lavori del primo gruppo di casette. Quindi il ritorno dell'attività, il ritorno delle persone. È una giornata importante dove mettere appunto un punto che è un punto di ripartenza per la realtà di Muccia, ma è anche il momento in cui facciamo sapere che le cose stanno andando avanti. Non col desiderio di incensare che pur ci sono i meriti di chi ha lavorato, ma proprio per far sapere questa cosa, sapere che qui è possibile venire, che si trovano commercianti che io definisco coraggiosi perché non è facile riaprire dopo un periodo così lungo di chiusura forzata. E quindi li invito a venire in questi posti, a trasformare quella solidarietà importantissima che c'è stata all'inizio, che è stata fatta attraverso mille donazioni e vicinanza, proprio venendo in questi luoghi, frequentando, utilizzando i servizi di questa realtà. Nello stesso giorno è stato consegnato l'assegno di 5.800 euro, frutto della raccolta fondi Pro Muccia, realizzata nel giorno del diciannovesimo compleanno del centro commerciale Valdichienti di Piediripa. Abbiamo ottenuto un bel risultato perché oggi siamo qui a Muccia, in questa inaugurazione di un centro commerciale per loro, che rappresenta un punto di partenza, come diceva il sindaco, a consegnare nelle mani proprio del sindaco Baroni questi 5.800 euro che sono ricavati dalla raccolta fondi.